Ehi, guarda che è finita, eh. Siamo saldi. Voi pensate che io ho fatto tutto questo per finire sui giornali a spese vostre, vero? Vero. In effetti è vero. Oh, e non ti senti meglio adesso che l'hai detto? Eh? La mia vita è stata un fallimento. Eh, anche la nostra, dai. Ma non ne facciamo una tragedia. Io ero la bambina prodigio d'Italia. Ma è durata pochissimo e non ho fatto mai niente di davvero speciale. Poi a un certo punto ti dicono che il talento non basta, che le devi provare tutte. Beh, se lo volete sapere, io l'ho data a chiunque. Questa non la volevo sapere. Io sì. A chiunque. E anche lì ho sempre sbagliato. Produttori falliti. Registi che non erano registi, agenti da quattro soldi. Se cercate su internet, c'è anche un video dove faccio un pompino a uno sceneggiatore. A uno sceneggiatore, capito come sono messa? Male. Amo tutto quello che fai, amo il rumore dei tuoi gesti. Grazie. Grazie. Grazie.